Un gruppo di operatori turistici statunitensi, affiancati da giornalisti specializzati della stampa americana, saranno a Napoli dal 23 al 26 gennaio per un percorso di esplorazione alla scoperta della città, promosso ed organizzato dal Comune di Napoli. Agli ospiti è riservato un intenso programma di iniziative, che comprenderà tra l'altro la visita dei siti storici e monumentali, i musei, il lungomare Caracciolo, le colline del Vomero e di Posillipo, ed anche gli alberghi e le altre strutture ricettive della città. Non potrà mancare la degustazione dei cibi locali e dei prodotti tipici del territorio e una serata di spettacolo al Teatro San Carlo. Comunicare le cose buone che si fanno nella nostra città, quindi superare una prospettiva di tipo provinciale e pensare che Napoli è una delle dieci città più importanti del mondo, quindi deve ragionare come una delle più importanti città del mondo. Sì, spero di vedere i cambiamenti che stanno facendo in Napoli e le progetti che hanno per il futuro e le cambiamenti di futuro. Abbiamo iniziato a vedere un'increse qui. A po' di anni fa, c'era un po' di pressa in Napoli, i problemi che hai con la città, è vero, è vero, è stato tutto all'interno della città. Ma credo che Napoli ha molto a offerare. Parto di ragione per questa educazione è anche per farvi che tutti i tour operatori sapere che questi problemi sono stati risolvati. L'intero progetto viene realizzato a costo zero per il Comune, grazie alla collaborazione con gli operatori turistici napoletani che metteranno a disposizione dei colleghi americani i loro servizi a scopo promozionale. Avranno modo di conoscere la città nei suoi percorsi più belli e caratteristici, nonostante ami la pioggia, e far sì che si ponga l'attenzione su Napoli come non soltanto città di passaggio, ma città dove stare, apprezzare i monumenti, i siti archeologici, i siti monumentali. E l'abbiamo fatto perseguendo una sinergia tra varie entità, istituzioni, operatori privati che hanno dato un contributo e un sostegno a questi tre giorni organizzati con grande cura. Abbiamo tracciato delle linee di contatto importanti sia con l'India, che è un paese di nuovo profilo turistico, con la Cina e con la Russia. Tutti i contatti che sono partiti nel corso della Fiera del Turismo di Rimini e che proveremo a portare avanti.